Anche in Italia i controlli vengono disincentivati, noi adesso in regione lo sapete stiamo lottando su Expo, nel senso se manca il controllo, chi opera e chi ha l'amministrazione? Ma c'è Cantone adesso no? Cantone va a fare il pompiere tecnicamente, anche se secondo noi non gli sono stati dati tutti i poteri che gli servivano, perché comunque la politica deve sempre cercare di stare in equilibrio, è evidente che insomma vogliono cercare anche di limitare i danni senza però andare a prendere decisioni importanti. Noi stiamo discutendo e discuteremo anche domani di questo prevedimento per i POS, voglio dire da un lato giustamente bisogna combattere l'evasione fiscale, ma non è questo lo strumento secondo noi per iniziare, io per l'amor del cielo abbiamo la nostra posizione perché noi riteniamo che sia quanto mai paradossale che si debba partire a fare questa lotta mettendo questi costi aggiuntivi per le imprese, perché poi noi prendiamo ad esempio i paesi nordici della Scandinavia ma lì i servizi finanziari di quel tipo non costano, per le banche invece in questo caso ci sarebbe la possibilità di avere transazioni finanziarie, costi aggiuntivi e quindi per loro guadagni e al contempo avrebbero una diminuzione degli importi di contanti da gestire, cosa significa? Siccome per le banche il contante è un costo importante e improduttivo per la gestione, loro vanno a diminuire i loro costi e aumentare i loro profitti, a spese di chi? Dei commercianti, quindi insomma è una situazione... Ma la roba allucinante è che adesso con la nuova norma si potrà pagare con carta di credito tutti praticamente per spese superiore a 30 euro però, però cosa succede? Che chi non si adegua alla fine la sanzione non gliela dai? Ma questo è positivo Ma che cos'è positivo? Ma in Italia tu lo sai che se poi non hai la sanzione la cosa non la farai mai Appunto questo liberalizza il mercato, ci sarà quello che la prende, quello che non la prende e io, cliente, sceglierò di andare dove c'è da pagare col banco ma tu dovete tirare fuori i contanti No, questa è una soluzione per farlo passare e fra sei mesi viene messa la sanzione in modo tale che quando deve passare tutti dicono vabbè se non c'è sanzione chi se ne frega e non alzano le barriccate